Benvenuti a tutti in questo nuovo video calagioni di carne di mia suocera. I caratteristici calagioni di carne hanno un ripieno che mia suocera compone così. Prosciutto crudo, speck, pancetta, salsiccia, tutto a cubetti. Uova, formaggio grattugiato che è simil grana di latte vaccino, primo sale e anche del pecorino. Tutto viene amalgamato ben bene e successivamente le uova fanno il resto, cioè tenere tutto per il ripieno dal gran gusto. Vediamo il procedimento e proviamo anche se volete a realizzarli. Sono come quelli di verdura, anche questi di carne, tipici del periodo pasquale. Per l'impasto usiamo acqua, farina, lievito, sugna, sale quanto basta. Così come avevamo fatto per quelli. Con la verdura, ecco qua tutto il procedimento e la bellezza anche da vedere di questi calagioni. Ecco una volta posizionato si chiude anche. Come quello con le verdure il procedimento è più o meno lo stesso, ma a un certo punto vediamo che per assicurare una miglior chiusura viene usata una forchetta. Con la forchetta poi si inciderà anche la superficie superiore del calagione per poter assicurare una migliore cottura all'interno. In un forno sempre a 180 gradi per circa 40 minuti. Poi come ha detto mia suocera si va un attimo a occhio e si vede quando è ora di poterli tirar fuori dal forno. Ecco si spennella con le uova precedentemente preparate in una ciotola. Una bella spennellata e poi come vi dicevo si incidono con la forchetta prima di essere infornati. Il risultato è strepitoso e anche questi io li ho mangiati senza formaggio grazie a mia suocera. Grazie a tutti. Alla prossima! Alla prossima!